Sindaca, ho sentito che da quest'anno una nuova visibilità e un nuovo tempo per questa manifestazione. Sì, diciamo che questo è stato un bel successo, che ritorna a Torino, ringrazio tutti coloro che hanno permesso che questo potesse accadere e prossimo anno ci allarghiamo sia nello spazio che nel tempo. E Torino ha anche dato grande prova di sensibilità ambientale con l'inaugurazione anche poco tempo fa di 10 nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici di Heavyway. Crediamo fortemente nella mobilità elettrica, riteniamo che sia sostanzialmente il futuro per una città come Torino che peraltro ha grandi problemi di inquinamento d'aria. Quello è solo il primo passo perché l'infrastruttura va creata in senso ampio, 10 colonine non sono sufficienti ma sono un primo passo importante. Grazie. A voi.